Episodio 6 del corso di C++, oggi voglio parlarvi dei namespace, perché potreste vederli in giro, documentazione, esercizio e quant'altro, perciò non voglio aspettare metà corso e più per spiegarveli, tanto non è niente di che, sicuramente poi li potrete ampliare con le conoscenze che andremo a farci man mano, però a livello basico non sono veramente niente di che, perciò credo siano abbastanza capibili. Dunque, ripartiamo dal nostro Iostream, la libreria, che ci permette di utilizzare std, che ci permette di utilizzare cout, perché cout è un oggetto di std, quindi cout ci permette di mandare fuori in console e dove si trova? Si trova dentro std, std è il namespace, vedete? Namespace std che in realtà vuol dire standard, e questa cosa l'abbiamo già vista. Un namespace è letteralmente uno spazio di nomi, quindi voi pensate che noi abbiamo magari una vagonata di variabili, costanti, funzioni, classi, molte cose non le abbiamo ancora viste, ma non preoccupatevi, abbiamo veramente tanto codice qua all'inizio che dobbiamo utilizzare, eccetera. Alcune cose però sono chiaramente divisibili, possono essere divisibili ad esempio per argomento. Un esempio potrebbe esserci roba che è più legata alla matematica, roba che è più legata alla geometria, chiaramente se state facendo appunto un programma di calcoli, eccetera. Roba che è più legata alla trigonometria, scienze e quant'altro. Potreste decidere di andare, anziché avere tutto qua dentro, uno dei modi in cui potete dividerli, è andare a creare questi namespace. I namespace altro non sono che delle, chiamiamole regioni di codice, dei blocchi di codice, che appunto possono contenerli, ma soprattutto gli danno un nome logico. Quindi sappiamo che questo Cout fa parte di questa regione chiamata standard, quindi di quelle cose standard che utilizziamo proprio in modo becero appena entriamo. Cioè sappiamo fare niente in C++, però stiamo già usando questa cosa qua. Quindi vuol dire che Cout si trova in questo namespace standard. È proprio arrivi, bam, sei già dentro e fai queste piccole cose. Ad esempio non stiamo utilizzando librerie di matematica, non stiamo utilizzando librerie di dati, eccetera. Perché? Perché siamo ancora all'inizio. Quindi ci limitiamo appunto alla libreria standard di quelle operazioni che sono la base. Ora, abbiamo un modo per non scriverlo tutte queste volte STD, anche se io preferisco continuare a scriverlo, perché ci fa capire bene da dove stiamo prendendo cosa. Ed è molto importante perché adesso includiamo solo una roba, più avanti ne includeremo tante. Di conseguenza potremmo avere molti più namespace e quindi secondo me è utile avere sempre davanti cosa stiamo facendo. Certo, più avanti diventerà molto semplice ricordarsi che Cout fa parte di standard. Più ci lavorate, chiaramente più vi resta in testa. Però per evitare confusione, secondo me lo scrivete una volta in più, cioè evitate quello che è STD, due punti, due punti. Vabbè, pazienza, però quando poi ci tornate è tutto in ordine, soprattutto all'inizio. Però, poniamo il caso che volete evitare di scriverlo. Potete utilizzare using, using, non using, using namespace. E poi mettiamo STD. Facendo così, adesso siete autorizzati a toglierlo da qualsiasi parte. Vedete, io lo tolgo qua, lo tolgo qua, salvo, faccio partire e vedete che è tutto in check. Se io avessi tolto il namespace qui, vedete che mi dà subito un problema, perché non sa da dove prenderlo. Sa però dove prenderlo qua. Quindi, il fatto di dire using namespace, sto utilizzando, using è usare, utilizzare, sto usando il namespace STD. Di conseguenza, il codice tiene a mente questa cosa, perciò mi dice, ok, riportiamolo un attimo nel file. Ah, ok, perfetto, questo Cout è dentro il namespace STD. Lo so per certo, di conseguenza so che quando mi dici Cout, fai riferimento a questo namespace, ok? Però poniamo il caso che io abbia un mio namespace, ad esempio, namespace, potete crearli qua dentro, potete crearli in altri file, eccetera, però ci limitiamo qua dentro. Ho il mio namespace di prova e dentro il mio namespace di prova vado a creare un Cout, molto bene. Questo Cout non fa assolutamente niente, però vedete che nel momento in cui io mi metto qua sotto e faccio prova, due punti, due punti, posso chiamare Cout. Vedete? Quindi, che cosa sta succedendo? Succede che ho creato questo Cout che è semplicemente una variabile, ma giusto per farvi vedere come possiamo avere lo stesso nome in più namespace. Di conseguenza, nel momento in cui voi dite using namespace STD e per caso scrivete solo Cout così, lui fa riferimento a cosa? A STD, lo vedete? STD. Se io torno indietro e ho prova, chiaramente fa riferimento a prova STD. Di conseguenza diventa facile sbagliarsi. Nel momento in cui avete una, un qualcosa, poniamo il caso che sia una variabile, che si chiama allo stesso modo in due namespace diversi, è buona regola mettere il namespace davanti per non avere problemi di nome. Perché se per caso, ripeto, voi andate sul sicuro che, eh, ma io sto scrivendo Cout così, mi aspetto che si approva. Ma qualcuno ha scritto qua dentro o in giro, perché potrebbe anche essere qua dentro, eh, potrebbe essere qua dentro, qualcuno ha scritto male il codice, si trova qua dentro, non vi rendete conto che c'è scritto using namespace, state utilizzando il Cout sbagliato, ok? Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato il nostro namespace con dentro un po' di roba, ad esempio potremmo avere diverse cose, diverse variabili, costanti, funzioni, classi, eccetera, eccetera. E le andiamo a utilizzare con davanti il namespace. Però il namespace alla fine va a creare quella che è appunto, lo ripeto, lo appasso così, una regione di codice. Perché vedete com'è separata dalle altre. È separata dalle parentesi graffe, che non è il main, quindi non viene eseguita, è qua a disposizione, e noi possiamo richiamarlo a piacimento. Vedete che non importa se io lo metto qua in alto, in globale, poi parleremo dello scope, oppure dentro, fa comunque riferimento a Cout std. Nel momento in cui però vado a scrivere using namespace prova e chiamo Cout, vedete che abbiamo un problema. Ci dice Cout ambiguo. Non sa cosa fare. Ma come? Stai usando il namespace std. Stai usando anche però il namespace prova, io ho un problema. Mi dice, guarda che qui è ambiguo, ok? Quindi poniamo il caso che noi abbiamo solo Cout, ma abbiamo anche Cedo. Quindi in questo caso dobbiamo per forza andare a chiamare che cosa stiamo facendo. Quindi qui sarà sicuramente std, due punti, due punti, Cout, e non è più un problema. Qua andiamo a chiamare prova, due punti, due punti, Cout, e non è più un problema. Però adesso, avendo anche prova, io posso andare a chiamare Cedo, tac, e vedete che Cedo farà riferimento a prova, ok? Quindi voi potete utilizzare tutti i namespace che volete. Il fatto di utilizzare, di dire using namespace, ci dà la possibilità di evitare di scrivere il namespace qua davanti. Però, ripeto, il problema è l'ambiguità. Qua ce lo dice, però poi dobbiamo ricordarci cosa abbiamo fatto, perché volevamo quello, eccetera. Se invece scriviamo subito std, sappiamo che vogliamo la libreria standard, Cout, e siamo a posto, ok? Quindi sul fatto di usare o meno questo, potete fare fondamentalmente quello che volete. Più che altro, ricordarvi che il namespace è semplicemente una zona nominata, un piccolo spazio nominato. Vedete, namespace, uno spazio nominato. In questo caso ci ho messo prova. Più avanti metteremo molta più roba all'interno. Vi faccio vedere un esempio che ho creato a parte prima della lezione. Io vado qui e ho creato namespace matematica, con dentro due funzioni, somma e sottrazione. E poi namespace geometria, con dentro pi greco, con dentro area cerchio, area quadrato. Quindi anziché avere ad esempio pi greco qua dentro, che non vuol dire niente, c'ho il mio namespace e mi tiene il codice ben ordinato. Perciò se voglio chiamare pi greco, anziché averlo qui, lo vado a mettere nel suo namespace. Perciò io quando vado a chiamare pi greco, faccio geometria, due punti, due punti, ed è tutto più ordinato. Ok? Un'ultima cosa, non siete obbligati a chiamare esclusivamente il namespace per intero, vi faccio vedere. Ma potete anche, togliamo questo, tac tac, togliamo prova che non ci interessa. Devo mettere std qua davanti, benissimo. Cosa possiamo fare? Possiamo anche utilizzare, quindi fare using std, std, due punti, due punti, cout. Quindi anziché portare, magari punte virgola, perfetto, anziché dire al codice, ehi fammi utilizzare qualsiasi cosa, ti dico, guarda sto utilizzando std cout. Quindi ogni volta che scrivo cout, faccio riferimento a questo. Di conseguenza vi faccio vedere che se io tolgo qui, cout non mi dà alcun tipo di problema. Se lo tolgo su std endline, vedete che mi dà problemi. Voglio evitare di scrivere ogni volta std endline. Lo faccio qui e siamo a posto. Vedete, adesso non mi dà più problemi. Qualche secondo, perfetto, e si è aggiornato. Ok? Quindi se proprio proprio volete andare a, tra virgolette, risparmiare tempo da quel punto di vista, spesso viene utilizzato così, potete andare a prendere le singole cose. Sappiate che però poi viene una bella lista di cose. Io, per preferenza personale, preferisco avere tutte le scritte. Allora, quando ero un principiante, continuare a vedere std cout, std 2.0 cout, e poi queste cose qua, non ci capivo niente. Mi sembrava molto più codice del necessario, sembrava arabo, eccetera. Dopo che ci passate qualche oretta, automaticamente, soprattutto anche per come ci aiuta la colorazione di Visual Studio Code, vi abituate a vedere questa cosa, in questo caso il mio è verdino più azzurrino, verdino più giallino. Vi abituate a vedere queste cose come un unico insieme, quindi il vostro occhio le appaia automaticamente e leggete questa parte qua. Se vi servono più informazioni, vi rendete conto che è std e ci fate caso, ok? Ma automaticamente il mio occhio sta appaiando, per me è un'unica parola. Std 2.2.0 è un'unica cosa. Quando ho cominciato, io lo vedevo così. E non ci capivo niente. Cioè il mio occhio lo vedeva così, std, 2 punti, 2 punti, cosa vuol dire il 2 punti, perché il 2 punti è doppio, end line, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i namespace, molto semplice, niente di incredibile. Ho voluto togliermi il dente, togliere il dolore subito. Adesso lo sappiamo, possiamo accantonarli per un po'. Soprattutto le cose che vedremo più avanti le potete inserire nei namespace, ok? Quindi non preoccupatevi, adesso sappiamo la base, poi la potete allargare, a piacimento. Prossimo video è più importante per ora dei namespace, perché parliamo dei tipi di dati, perché per ora ne abbiamo visto esclusivamente int. Diciamo che sappiamo lavorare con poche, poche cose. Ci vediamo tra poco. Grazie.